Allontanare il traffico delle merci dal tessuto urbano di Brindisi non è più un miraggio. Finalmente sarà realizzata un'importante opera infrastrutturale, ovvero sia un nodo intermodale con i binari centralizzati per i treni merci. L'obiettivo è quello di incentivare le relazioni tra il porto di Brindisi e il Mediterraneo. Rete Ferroviaria Italiana, società capofile del Polo Infrastrutture, ha giudicato la gara al raggruppamento di impressi e professionisti. Si tratta di un altro passo in avanti per la Puglia, un trasporto merci sempre più sostenibile che apre il sud Italia verso l'Europa, come dichiara Giampiero Strisciuglio, direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori previsti sul nodo di Brindisi permetteranno un collegamento sempre più efficiente con la linea adriatica. L'appalto ha un valore di oltre 33 milioni di euro, finanziato anche con fondi PNRR. Il progetto prevede il completamento della nuova stazione Brindisi Intermodale, che avrà quindi quattro binari centralizzati a modulo di 750 metri per arrivo e partenza dei treni merci e il collegamento ferroviario della nuova stazione con la direttrice adriatica, attraverso l'allaccio del nuovo bivio Brindisi Sud. Con quest'opera si vuole in pratica convogliare il traffico delle merci sui raccordi alla banchina portuale di Costa Morena, tramite la dorsale asia esistente. L'attivazione dell'opera è prevista entro il 2026.